Per farlo di un intro Nah Bello ragazzi Benvenuti qui con il nostro nuovo video E oggi guarderemo i nostri vecchi video Da giovani Da tanto tempo fa capito Perché si parla di quasi 4 anni fa Inizieremo a guardare dal primo video Fino a quello di oggi Quindi state con noi in questa maratona Di 37.000 ore E ce li guarderemo tutti Vorremmo farne la maratona su twitch Di tutti i nostri video Mamma mia Allora andiamo dal Dato di aggiunta meno recente E ci guardiamo i nostri video insieme Allora questo è il primo video Che ha 8400 visual Regà questo è veramente Veramente Senti allora ragazzo Allora già si sente Comincia Noi cominciamo subito con Bella Passa un po' di tempo E poi cominciamo a parlare Guarda eh guarda Vai vai Silenzio Ciao ragazzi Siamo Ciao ragazzi Sono qui per presentarvi Il nostro Nuovo canale Perché questo è un canale Un po' Particolare Non è come i classici Canali Che fanno appunto Gameplay di Call of Duty Che Appunto Sono da soli E noi invece Siamo in due E infatti presento subito Il mio compagno Ciao a tutti ragazzi A tutti ragazzi A tutti ragazzi Vari scleri E varie cose No Ovvio Ovvio Il commento del giorno Ovvio L'intervento del giorno Ovvio Io ero veramente un fenomeno A fare i commenti Erempie A pensare di fare questi Gameplay Bello stealth for me Eravamo anche problemi Perché non proviamo anche noi Magari Forse Magari ci dice bene OOOH Il commento del giorno Magari ci dice bene Quattro parole Il primo vlog Il primo vlog Il mio cappello Il mio cappello Non l'altro Passa Allora il primo Bella Bella ragazzi Eccoci qua Ci avete visto in faccia Finalmente Così siete contenti E mo' potremo chiudere il video Ah perché È venuto a dormire da me Ah giusto Quanto siamo Trove Di mamma Di che eravamo Mamma mia Di un'amma manda ivy Eccolo eh Vai O por Che Oddio come non ricordare questo video Ma raga perché Mamma mia Del coniglio Detti intro Con logo Molto professionale Bello ragazzi Sono Dario Qua pare che sto in galera Sono dentro al bunker Sono dentro al bunker E so farlo Sono libero soltanto Se mi date 5 C'è stato tipo Partiamo subito Con il primo La vi spiego Io per far sto video Che tu puoi Avevo messo Un Un lenzuolo Sull'armadio Questo qua No raga E io l'avevo messo qua E c'era lui che teneva la luce Dietro così E praticamente Qua sembra che ti posso Chiedere scatto Liberatemi per favore Dove vai È proprio un cazzato Quando lo fanno Quando stai tu Il 7 a 0 Ti segnano Che fanno Ti fanno così Ma Cazzo Ma che cosa C'è io mi cazzo veramente Quando dico queste cose Non è Non sto recitando Senza senso E o e o e o a e Cazzo Ho fatto su un o o o o Sì per lui sì Quando gioco io Lui fa o o o Quando gioca lui Io faccio o o o E o E allora Una cosa seria Una cosa seria Vai Pumper I dissing Così possono valire comunque È vero Fanno i ritori È così Sì Che tu li nomini E dici Contro i Pumper Contro i Pumper Eccolo E' giusto Questo ghiaccio è aggheggiante Ma che cazzo Non ha senso Non abbiamo fatto un discorso sensato No no In tutto il video Oh no ma No non ci dico due Non fai i lati Come cazzo ho fatto a non piarlo Che poi c'è il succo bravo E c'è il bravo e cattivo Che cazzo No la voglio risentire questa Il succo bravo E il bravo e cattivo Non fai i lati Come è possibile Il lag di merda Che poi c'è il succo bravo E c'è il bravo e cattivo Non l'ho capito Manco io Maa Manco io Là vedi il pallino Sempre che il vedio ancora Oh ce n'è destra Distra Destra Sinistra Poi un altro magical Dicolo Quanto ero forte C'è il succo bravo Regà Non l'ho capito Questa è la nuova citazione C'è il succo bravo C'è il bravo e il cattivo C'era voglio qua sotto, voglio di oggi spammata,va c'è il socco bravo, è il bravo che c'è D'effetto taglio mi piace troppo Dovremmo ricominciare a fare i video tutti così Dovremmo ricominciare a giocare a cosa in realtà Sono qui Sono lì Sono qui E o Sono qui Sono lì Sei lì Sono qui Ti faccio tutti i dati Sì ho capito però Vederlo intero è molto idiota Tu dici Come fai E o E o E o E Che bello Grazie Ragazzi speriamo vi siete divertiti e viate rivissuto con noi questi momenti epici Di momenti epici delle live Che dovremmo Ma senti un merluzzo per un attimo Che dovremmo rifare le live torneranno a breve con grandi sorprese per noi e per voi Soprattutto per noi E per voi più fino in breve Soprattutto per noi E Ricordate Quindi C'è il succo bravo e ci sono i bravi cantini Non l'ho capita manco io Ancora devo cercare a capire Non lo sento Vieti ragazzi se vi è piaciuto questo video lasciamo like Like a bomba Like a bombazzo E mi raccomando scrivete Darryl me out Ma un paio de cuffie Lo so che in questo momento eravate appoggiati sulla mano destra No sinistra No tutto sul cazzo Vabbè comunque dai A parte tutto Noi ci ubicchiamo al prossimo video E se vi è piaciuto lasciamo 2000 like E niente Bella Si E se vi è piaciuto questo video ne faremo altri Sono i nostri video Bello Torneremo a fare i video vecchi Io voglio tornare Fare i video vecchi Tatti La tipologia dei video vecchi Perché erano veramente che belli Con i tagli che facciano No ma c'è sì Con questi tagli così Che ti diverti mentre giochi Comunque ragazzi veramente Lui c'ha ragione Io c'ho ragione Tutti abbiamo ragione Il mondo ha ragione E ci becchiamo al prossimo video Beh ciao